Ok, adesso basta. Esatto! Una statua! Forse dovresti accettare il lavoro, Harry. Ah, chi è Harry? Diamine! Credo sia lui. Dov'è il cancella a memoria, Suoz? Non accetterò il lavoro. Ah, davvero? Perché inizio a dubitare della tua dedizione a Suelvio. La mia dedizione a Suelvio? Stai scherzando! Beh, non sei poi così dedito per me. Non potrò diplomarmi a causa della mia dedizione a questo mestiere. Oh, i miei amici se ne vanno e io sono intrappolato a Suelvio a fare l'assistente e a salvare vite. Coppio così? Per salvare le vite degli altri l'ho dimenticato di averne una anch'io. Hai giurato di difendere questa città? Quando avevo tredici anni. E allora? Allora forse non voglio più farlo. Certo, perché hai paura di restare intrappolato qui a Suelvio con me. Sì, Ray, esatto. Chi è Ray? Diamine! Io ritengo che sia lui. Dov'è quel cavolo di cancella a memoria, Suoz? Non voglio farti da assistente per altri trenta, quaranta o cinquant'anni. Ma quello era il piano fin dal principio, farmi da assistente e poi prendere il mio posto come Capitan Man con il mio pensionamento. No, no, io non voglio essere Capitan Man, ok? Non vorrò mai essere Capitan Man. Non sarò mai e poi mai Capitan Man! Psst, è davanti a te. Allora che cosa ci fai qui? Ottima domanda. Dove vai? Mi licenzio. Salve a tutti. Io sono Henry Hatt. E una volta ero Kid Danger. Ah, è Ray. Che c'è? Sono più alto di te. Ah. Si. Oh. Grazie a tutti